Musica Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio Il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana Anche in questo nostro appuntamento sono tre gli argomenti che affrontiamo Il primo riguarda la mitigazione dell'indice Istat E quindi l'approvazione dell'assegna sugli assegni vitalizi dei consiglieri regionali In carica fino alla nona legislatura Poi parleremo della Commissione Sanità Che è data in visita istituzionale al Presidio ospedaliero di Santa Maria Nuova a Firenze E poi una targa per il centenario dell'US Castelnuovo Garfagnana Calcio che festeggia appunto i cento anni di attività Il primo tema quindi ci porta all'interno dell'aula Dopo un incontro serrato Soprattutto un confronto Un ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana Poi in Commissione Bilancio nonché tra i capi gruppo Anche proprio nel corso della seduta dell'Assemblea Ha approvato una proposta di legge Disposizioni per la riduzione temporanea Del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi Dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura Ha registrato 31 voti favorevoli Alla non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle Si stabilisce tra gli scenari e gli scaglioni individuati dalla legge Un tasso di indicizzazione pari al 3% Per i vitalizi inferiori a 1.500 euro Il 2% per quelli di importo tra 1.500 e 3.000 euro L'1% invece per i vitalizi di fascia più alta Ovvero superiori a 3.000 euro Avremmo avuto un aumento di costo Visto che l'inflazione è stimata intorno al 12% Di circa 700.000 euro Noi siamo invece la prima regione italiana Ad aver approvato oggi E ringrazio tutti i colleghi consiglieri Una legge che sostanzialmente limita temporalmente L'aumento ISTAT dei vitalizi In più abbiamo approvato Anche questo all'unanimità Un ordine del giorno che impegna la Giunta A valutare nella conferenza Stato-Regioni Se è possibile proprio toglierlo definitivamente E azzerarlo Questa è una valutazione che dipende dal rapporto Anche con il Governo Noi abbiamo fatto tutto questo Perché in un momento di difficoltà In cui i cittadini, le famiglie Vivono, faticano ancora più del solito Il calo energia, l'aumento dell'inflazione Abbiamo voluto dare un messaggio, un messaggio forte E chiaro che la regione toscana Si è presa la responsabilità Di ridurre un privilegio per pochi Era l'unico strumento che avevamo a disposizione E lo abbiamo attuato in maniera molto chiaro Tenete conto che con questa norma Si risparmiano circa 600.000 euro Di risorse dei toscani Una scelta importante che tiene conto Del quadro economico-sociale Che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi E che quindi va proprio incontro A un'esigenza di razionalizzazione Dei costi della politica La regione toscana è l'unica regione italiana Che ha deciso di ridurre L'indicizzazione dei vitalizi Degli ex consiglieri regionali È noto che i consiglieri regionali Non godono più del vitalizio Sono rimasti in piedi i vitalizi Dei consiglieri regionali eletti Fino alla nona legislatura compresa Poiché c'è una norma Che impone l'adeguamento Di questi vitalizi agli indici Istat Oggi la regione toscana Ha deciso di ridurre sensibilmente Questo incremento E lo ha fatto ancorandosi a dei parametri Che si avvicinano in alcuni casi allo zero Proprio per far sì che questo incremento Sia da una parte rispettoso Del dettato legislativo che ci impone A livello nazionale un adeguamento Degli importi dei vitalizi Ma dall'altra parte che sia Quanto più possibile contenuto Una scelta importante Che altre regioni non hanno fatto E che comporterà una riduzione Di costi della politica sensibile Per la regione toscana Se infatti nulla si fosse fatto A livello legislativo Avremmo avuto per i prossimi tre anni Ragionando del bilancio di previsione 2023-2025 Un incremento annuo di costi Vicino a 750 mila euro all'anno In questo modo i costi si riducono A circa 90 mila euro all'anno Quindi con un risparmio sensibile Che si avvicina ai 650 mila euro all'anno Un segnale importante Che la regione toscana E il consiglio regionale Intende dare ai cittadini toscani In un momento di profonda crisi Come quello che stiamo vivendo Un segnale di contenimento dei costi della politica Sì una scelta giusta Una scelta difficile Però il coraggio di un gruppo dirigente Questo che oggi è in consiglio regionale Di chi ha guidato questa trattativa Abbiamo avuto il coraggio Di andare a ridurre L'importo dei vitalizi Alle persone che prima di noi Hanno amministrato la Toscana Forse è stato per me Avremmo potuto anche eliminare Ma sicuramente andremo in questa direzione Perché c'è un impegno congiunto Delle forze politiche Che va verso il superamento Della rivalutazione Istat Intanto il coraggio di togliere 600.000 euro Che saranno destinate invece Ai cittadini toscani Al mondo delle associazioni Alla cultura Ai giovani A tanti progetti che possiamo fare È assurdo pensare Che nel mondo di oggi Persone che vivono di un privilegio Potessero ancora pensare Che questo privilegio Potesse essere anche rivalutato Abbiamo fatto il massimo Siamo l'unica regione in Italia Che ha avuto questo coraggio di farlo Credo che si possa andare oltre Rispetto al superamento dello stesso strumento Ma intanto oggi Una buona Una bella pagina toscana Dove tutti i gruppi politici Indipendentemente dall'appartenenza Hanno condiviso L'idea di chiudere una stagione Quella dei privilegi Del passato Quanto noi come amministratori Non abbiamo questo privilegio È corretto che sia Questo ci consente di andare A testa alta Dai nostri cittadini Sia questa legislatura Che quella precedente Male avevano fatto in passato Invece a pensare di mantenerselo per sé Pensare di rivalutarselo E poi a quelli dopo togliere Hanno fatto bene a toglierlo a noi Ma noi facciamo bene Ad eliminare il livello della rivalutazione È il mio ordine del giorno Intanto ringrazio tutti i capogruppo Perché lo hanno controfirmato Permettendomi appunto Di poterlo discutere in aula È quello di andare Nei prossimi semestri Di dare mandato al presidente Gianni Nell'accordo Stato-Regioni Di portare avanti Proprio questa nostra iniziativa E cioè quello di togliere definitivamente Non il vitalizio Perché quello non possiamo Ma la rivalutazione Istat Al tempo stesso Nel momento in cui Dovesse esserci parere favorevole Andremo a rivisitare Anche la legge regionale del 2019 Questo Visto che la regione toscana Spesso e volentieri È stata promotrice Di grandi iniziative nazionali Ci auguriamo che questo Il nostro presidente Lo porti veramente a casa Perché riteniamo che sia una cosa giusta Nei confronti ad esempio Delle pensioni Che non hanno tutti questi privilegi Allora intanto Il vitalizio è uno strumento Lo abbiamo detto tutti in aula Ormai obsoleto E superato E forse figlio Di un'altra era politica Il problema è un altro Il problema è che Il vitalizio Della regione toscana E qui c'è un'anomalia Il vitalizio Della regione toscana È un vitalizio Che si rivaluta Annualmente In base all'Istat Quest'anno Con l'inflazione A oltre il 12% Vorrebbe dire Rivalutare Di oltre 750 mila euro Il vitalizio Degli ex consiglieri regionali Ricordiamo a tutti Che gli ex consiglieri regionali Percepiscono il vitalizio Perché durante la nona legislatura Qualcuno ha pensato Di fare il bello In quel momento Il paladino Dell'antipolitica Non so che cosa Abolendo i vitalizi Ma dimenticandosi Di dire Che li avrebbero aboliti A partire dalla legislativa Successiva alla loro Un primo capolavoro Detto questo A me è dispiaciuto Che il consiglio regionale Abbia dovuto legiferare Per impedire Che si rivalutassero I vitalizi del 12% Mi è dispiaciuto Perché Stiamo parlando Di vitalizi Che prendono Degli ex amministratori Degli ex consiglieri Cioè persone Che in vita loro Hanno amministrato E governato La nostra regione Che sanno Cosa significa Governare In momenti drammatici Per il paese Come questo Anche se forse In vita loro Hanno governato In momenti più floridi Ma sanno Cos'è un operaio Che protesta sotto la regione Perché perde il lavoro Uno studente Che protesta Una ditta che chiude Una RSA che si lamenta Lo sanno benissimo E allora avrebbero dovuto Fare una cosa semplicissima Seguire l'esempio Del Presidente della Repubblica Della massima carica Dello Stato italiano Che ha rinunciato All'adeguamento Della propria pensione Del proprio vitalizio E fare lo stesso Avrebbero dovuto Rinunciare loro Invece Anziché rinunciare E hanno inviato una lettera Dove si paragonavano Ai pensionati italiani Chiedendo un adeguamento Perlomeno pari A quello che il Governo nazionale Aveva previsto Per le pensioni minime In Italia Penso ci sia Grande differenza Grandissima differenza Tra un pensionato Che percepisce La pensione minima E un privilegiato Come noi Che ha avuto fortuna Di guadagnare Tanti soldi Alla politica In vita propria Lasciamo il Palazzo del Pegaso Ci spostiamo Da Via Pucci Veramente Una manciata Di metri Per arrivare All'ospedale Di Santa Maria Nuova L'ospedale Che si trova Appunto In centro A Firenze Tra appunto Via Cavour Sede del Palazzo del Pegaso E la zona Di Piazza del Duomo È la terza visita Istituzionale Della Commissione Sanità Del Consiglio Regionale Per individuare Eccellenze e criticità Del sistema sanitario E incontrare Gli operatori Nell'ambito Di una funzione Di programmazione Controllo E collaborazione Dopo Quella di Grosseto Del 15 novembre Di Pisa Il 29 di novembre Il 13 dicembre La Commissione Si è regata appunto All'ospedale Di Santa Maria Nuova Ma in realtà Santa Maria Nuova È un ospedale Sul quale la regione Ha investito molto Ha investito in tecnologia Ha investito in personale E quindi diciamo Le criticità sono Molto limitate Anche quelle Di carattere generale È ovvio Viene fuori sempre Il rapporto con il territorio Come elemento di criticità Che però qui Si è provato A calmerare Con una serie di elementi Che sono L'elemento del Girot Quindi della possibilità Di professionisti Di uscire fuori Di un rapporto Con il territorio Anche per quanto riguarda La possibilità Di usare Le strutture territoriali Come appunto Punti di ospedale Di comunità E altri posti Letto fuori Insomma c'è stata Una strutturazione Importante Però rimane ovviamente Una criticità La mancanza La mancanza di personale In pronto soccorso E qui soprattutto Per la mancanza Di specialisti Che ovviamente Possono venire a lavorare Qui però Diciamo che l'organizzazione È un pronto soccorso Questo che è stato Capace di strutturare Il Girot Quindi ci diceva Anche oggi Vedevamo con il direttore Come questo Abbia ridotto La necessità Di ospedalizzare I pazienti Che magari hanno Le patologie Del periodo Quindi persone anziane Con malattie respiratorie Legate a influenze E situazioni stagionali Che non sono state ricoverate Proprio perché c'è stata Capacità di curarle A casa E questo è un esempio Di quello che si potrebbe fare E poi medici internisti Che qui lavorano Direttamente in turno In pronto soccorso Quindi mi pare Che una situazione Sia davvero equilibrata Quindi un ospedale Dove l'investimento In tecnologie Nella struttura Nel personale Ha portato davvero Risultati Beh sono problemi Che partono comunque Da una forte integrazione Medici pazienti E quindi È un ospedale Al centro di Firenze Con le problematiche Può avere Una città Bomboniera Come Firenze Nel senso che Qui molto spesso Arrivano Persone straniere Arrivano persone Che vengono in vacanza Ci sono anche Gli istanziali E gli istanziali Sono soprattutto Vivendo nel centro storico Molte persone anziane Quindi Santa Maria Nuova Subisce i problemi Di una popolazione Molto intensa Di una città Metropolitana Cosa che non abbiamo Riscontrato Nelle altre Realtà Che abbiamo Visitato E cioè per esempio La Maremma Oppure Pisa Noi facciamo Da un punto di vista Di accessi D'urgenza Quasi 40.000 accessi L'anno Al centro Di una città Cosmopolita E quindi Abbiamo Un po' Una diversificazione Di patologie Di necessità Amplissima Per questo Naturalmente L'ospedale Ormai C'ha una storia Ben consolidata Poi ha Una serie di Specialità Particolari Partire dalla Chirurgia Bariatrica Che è di riferimento Nazionale Quindi Diciamo È un ospedale A tutti gli effetti Se la domanda Era relativa A delle difficoltà Ma Parlare di Santa Maria Nuova È come parlare Di qualsiasi Altro ospedale Dove ci sono Delle carenze Di personale Che sappiamo Ma perché Dalle scuole Di specializzazione Non ce ne ha Sufficienza E quindi Bisogna Trovare Modelli Sempre In evoluzione Che permettano Comunque Di soddisfare La richiesta Dell'utenza E adesso parliamo Di un festeggiamento Perché il Consiglio Regionale Ha premiato Con una targa Commemorativa L'Unione Sportiva Castel Nuovo Garfagnana Calcio In occasione Dei cento anni Dalla fondazione Per il costante impegno Della diffusione Dei valori dello sport Nel territorio Toscano Un compleanno Importante Guardate Cento anni Della Unione Sportiva Castel Nuovo Garfagnana Calcio È un modo per dire Grazie Grazie per il lavoro Portato avanti In questi anni Grazie ai volontari Grazie alle ragazze Ragazzi Perché sono 17 I gruppi I gruppi Al loro interno Ogni giorno Con impegno E dedizione Si mettono A disposizione La propria comunità Un grazie Davvero grande Per l'impegno Portato avanti Ma anche Un in bocca al lupo Perché questo sia Un modo per rilanciare Un nuovo inizio Perché la nostra idea È quella di una Toscana diffusa Di una Toscana Sempre attenta A tutti i territori E oggi Il premio È anche un modo Per dire Che noi Siamo presenti In tutti quei luoghi In cui si costruisse Socialità E questo Quello dei cento anni È un modo per dire Che quel territorio Ha prodotto Produce E produrrà Nuova socialità Sono stato Molto contento Di aver portato In ufficio Di presidenza L'idea Del mio collega Giovanni Galli Di celebrare In consiglio regionale Il centenario Dell'Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio Tutto l'ufficio Di presidenza Si è espresso Positivamente Ancora una volta Siamo uniti Per celebrare Una gloria Toscana Oltre alla gloria Occorre celebrare Anche la funzione Sociale Che queste Società Del mondo Direttantistico In questo caso La Castelnuovo Esercitano Con 400 Giovani Coinvolti 15 squadre Maschili Due femminili In un territorio Quello della Garfagnana Che è un territorio Che merita Di essere considerato Di essere valorizzato Non solo Sotto il profilo sportivo Questa è un'iniziativa Che è nata In questa legislatura La voglia E la volontà Di dare alle società sportive Di qualsiasi Disciplina Si parli Che hanno fatto Il loro centenario Un riconoscimento Da parte della regione Adesso aspetta Da Castelnuovo Garfagnana Lasciatemi dire Con un po' D'orgoglio Io ho un po' Di sangue Garfagnino Dentro Perché i miei nonni Arrivano Dal lago di Vagli Per cui Quando sono passato Appunto A Castelnuovo Ho visto che c'erano I festeggiamenti Del centenario Ho pensato Di poter Dare Appunto Questo riconoscimento A questa società gloriosa Io la ricordo Ai tempi Appunto Anche di quando giocavo Successivamente In qualità Di dirigente Insomma Ci abbiamo fatto Delle grandi sfide Prima nel vecchio Campetto Che era un po' Arroccato Nel quale C'erano veramente Delle grandi battaglie Quando si è andata Poi dopo giù Quello nuovo Che hanno fatto Lungo il fiume Che è decisamente Un gran bell'impianto Nella lunga storia Ci sono state Varie fasi Ci sono stati Nove anni Di campionati Professionistici Di serie C Quindi Siamo orgogliosi E onorati Di aver ricevuto Questo attestato Dalla regione Quindi per noi È veramente Un orgoglio Un onore E una gratificazione A tutti quelli Che lavorano Giorno dopo giorno Soprattutto fanno Un'opera sociale A partire Dari ragazzini E dalle ragazzine Perché abbiamo Anche le bambine Abbiamo 400 tesserati E quindi insomma C'è una storia Che continua E che è molto viva ancora Ed era anche L'ultimo argomento Per questo nostro incontro Con Dentro il Consiglio Vi ricordo Per tutti gli aggiornamenti Il sito internet A vostra disposizione www.inconsiglio.it Io vi aspetto Come sempre Qua Tra sette giorni Dentro il Consiglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.